È un'emozione indescrivibile entrare nella stanza segreta che conserva i disegni a carboncino attribuiti a Michelangelo, che si trova all'interno del Museo delle Cappelle Medicee e che dal 15 novembre 2023 riaprirà al pubblico per la prima volta in modo continuativo. L'artista si era rifugiato in questo piccolo ambiente nel 1530, quando il priore di San Lorenzo, Giovan Battista Figiovanni, lo nascose dalla vendetta di Papa Clemente VII, infuriato perché l'artista, durante il periodo in cui i medici furono cacciati dalla città, aveva militato come supervisore delle fortificazioni per il breve periodo del governo repubblicano. In questa fase di autoreclusione Michelangelo utilizzò i muri della stanza per abbozzare alcuni progetti, tra cui opere della sagrestia nuova, come le gambe di Giuliano De Medici, duca di Nemur, la testa dell'Aocoonte e progetti riferibili ad altre sculture e dipinti. Ottenuto il perdono della famiglia, dopo circa due mesi, che dovrebbero collocarsi tra la fine di giugno e la fine di ottobre 1530, Michelangelo tornò al Libero. È una stanza che c'è sempre stata, ma di cui non si conosceva l'importanza fino al 1975, quando fu ritrovata dall'allora direttore Paolo Dal Poggetto, tanto per cambiare alla ricerca di una soluzione della nuova uscita. Quindi come vedete la storia si ripete, questa annosa questione era molto sentita già negli anni 70 perché aumentavano i flussi di visitatori, c'era necessità di trovare un modo per cui non si andasse a gravare tanto sulla Basilica, ma si potesse far defluire i visitatori da un vano diverso dall'uscita. Si era pensato che da quel vano che voi attraverserete si potesse poi uscire sulla strada, si resse conto che non era possibile, però decisero comunque di liberare quel vano stretto e lungo che era adibito a deposito di carbone e di legna e svuotandolo iniziarono ad emergere questi segni e ci fu questa grande operazione di restauro e di studio di Paolo Dal Poggetto e del restauratore Sabino Giovannoni. Io non sono una studiosa di grafica di Michelangelo, penso che ci sia una compresenza della mano del maestro e altre mani, ma non mi arrogherei mai il diritto di indicare certamente, ritengo che alcuni dei disegni, per esempio il profilo della Leda, lo schizzo per quello che è uno dei monumenti funebri dei due capitani sia ascrivibili a Michelangelo. Credo che questa sarà l'occasione per cui il pubblico abbia il privilegio di visitarla e la comunità scientifica possa tornare, io mi auguro quando ci sarà l'attuazione della riforma, che organizzino una giornata di studi dedicata a chiamare tutti gli esperti mondiali di grafica michelangelesca per interrogarsi. Credo che comunque, come sempre nella nostra disciplina, l'occhio del conoscitore va un passo oltre qualunque indagine scientifica. Si accede alla piccola stanza passando dalla Sagrestia Nuova attraverso una scala stretta e ripida. Le prenotazioni saranno aperte fino al 30 marzo 2024. L'accesso sarà consentito a gruppi contingentati di massimo quattro persone alla volta, in modo da proteggere i disegni e mantenere adeguate condizioni conservative, con un limite di 100 persone a settimana. La permanenza dentro la stanza è di un massimo di 15 minuti accompagnati dal personale di vigilanza. L'ingresso è vietato ai bambini sotto ai 10 anni e a causa della scala lunga e stretta è impossibile accedere per le persone portatrici di disabilità. Io credo che sia arrivato il momento in cui tutti i visitatori possano vivere questo momento emozionante che ammutolisce, almeno questo è l'effetto che fa me anche adesso che ci sono scesa più volte, però c'è proprio un momento di immersione in un'altra dimensione. Che siano tutti di Michelangelo o no, è sicuramente una delle più importanti testimonianze di grafica a parete che abbiamo del XVI secolo.